Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un weekend di paure, quello che abbiamo visto, non tanto di calcio anche se c'è stato tanto bel gioco, un gol bellissimo da parte di Di Marco, ma un episodio davvero molto molto strano. E non è il solito calcio di rigore, ormai il settimo in 12 partite assegnato a favore dei Merdazzurri, ma è la telefonata che ci sarebbe stata dopo la partita tra Marotta e Rocchi, il disegnatore degli arbitri, perché qualche addetto ai lavori che era nelle vicinanze del direttore Marotta ha sentito questa telefonata dove lui e Rocchi, lui avrebbe fatto il nome di Rocchi, si facevano i complimenti a vicenda. Uno per come gestisce lo strumento che deve portare poi la realtà nel calcio e quindi eliminare gli errori e l'altro invece faceva i complimenti al direttore per il fatto di essere prima in classifica, poco prima della sosta e prima del derby d'Italia, come lo chiamano loro contro la Juventus. Questo mi fa davvero paura. Io direi che qualche magistrato dovrebbe intervenire, magari prendere in considerazione l'idea di mettere sotto intercettazione qualche telefonino, anche se so benissimo che se le strisce della maglia non sono bianco e nero, le intercettazioni non possono partire. Questo proprio per legge. Detto questo andiamo a vedere insieme l'episodio del calcio di rigore che ha fatto molto molto discutere e poi lo commentiamo assieme. E commentiamo anche il fatto che quando c'è da mettere la faccia sugli errori evidenti commessi dallo strumento nei confronti della Juventus, Rocchi la faccia non ce la mette ma manda sempre un sostituto. Quando invece c'è da parlare di altre squadre, beh Rocchi si presenta molto volentieri. Detto questo, prima di partire con il contenuto vi chiedo un bel like per supportare questo video e naturalmente condividetelo perché 7 su 12 sono davvero tanti. Io lo so che gli interisti faranno una guerra per cercare di far passare questo rigore come sacrosanto e legittimo. Io vi mostrerò le immagini al rallentatore e voi giudicherete senza che io dico null'altro. Qui c'è l'azione e ve la faccio vedere al rallentatore, guardate, lui scivola, ritira il piede, si toccano, guardate come sviene. Ve lo faccio rivedere, guardate. In questo momento ritira il piede, si toccano giustamente, si toccano. Guardate il piede sinistro di Turam come punta per terra e sembra che sia stato legato da qualcuno. Allora a velocità normale il tocco c'è, il caccio di rigore c'è ma visto al VAR, visto al VAR questo è davvero incredibile. Il fatto che non si sia andato a vedere che si butta, praticamente si butta, tra l'altro convinto che gli avrebbero fischiato il calcio di rigore perché è a un metro dalla porta avrebbe potuto tirare. E invece si butta per terra perché ormai è una prassia, ormai lo sanno, determinati calciatori di determinate squadre lo sanno che appena c'è un contatto in aria basta che ti lasci cadere. Se indossi la maglia giusta, il calcio di rigore c'è perché lo strumento non può andare a dirti l'intensità del contatto, ti fa vedere soltanto che c'è stato il contatto. Poi l'altro caduto per terra, il contatto c'è e il calcio di rigore dipende sempre dal colore della maglia. Non ce lo dimentichiamo perché in Juventus Bologna su Chiesa c'è stata una frana, non c'è stato un contatto, c'è stata una frana su Chiesa. Tra l'altro il giocatore tocca pure la balla con il braccio ma il VAR stavano guardando la partita dell'Inter e naturalmente non si sono accorti di tutto questo. Ora, non è tanto importante il rigore c'è o il rigore non c'è, ormai 7 su 12 siamo abituati. La cosa importante è che cosa si sono detti Marotta e Rocchi e soprattutto è normale che dopo la partita ci si senta un addetto ai lavori dell'Inter e il disegnatore degli arbitri per farsi i complimenti a vicenda. E poi mi vengono a dire che questo non è un campionato falsato, questa è la prova al di là del calcio di rigore. Che il campionato è falsato, se questa telefonata fosse vera qualcuno deve prendersi le proprie responsabilità e soprattutto qualcuno deve indagare e deve raccontarci la verità. Sulla Juventus funzionano tutte le intercettazioni, anche quelle ambientali. Noi siamo stati i primi a dire che se la società ha sbagliato in qualcosa deve pagare, però deve funzionare per tutti, per garantire la regolarità del campionato. Mentre invece quando ci sono degli errori a favore di, anzi contro una determinata squadra, addirittura non si presenta nemmeno a commentarli questi errori il disegnatore degli arbitri. Quando invece sono a favore parte subito la squalifica, anzi scusate, lo stop, le ferie di quattro settimane, quando non abbiamo visto nessuno stop, nessune ferie. Per quanto riguarda né il calcio di rigore non fischiato a Belotti contro l'Inter, prima pallo e poi piede, quello ve lo ricorderete. E nemmeno per quanto riguarda l'errore gigantesco sul fuorigioco fischiato in Salernitana Juventus con Candreva che teneva in campo tutto lo stadio. In quel caso lì, naturalmente, non arrivano né le telefonate di scuse per quanto riguarda il danno che ha subito la Juventus, e nemmeno arriva mai una telefonata da parte di qualche addetto ai lavori per quanto riguarda la direzione sportiva degli arbitri. Parola Juve è sempre quella che deve essere intercettata perché è la società che naturalmente, naturalmente, crea i sistemi, crea i sistemi, è falsa anche il sistema. Mentre tutte le altre società che fanno del sistema ormai il loro cavallo di battaglia sono vittime. Detto questo, è inutile andare tanto avanti. Il ragionamento è questo e poi vi do una chicca, anzi vi spoilerò il prossimo video, che parla di De Laurentiis che rischia anche sul penale. Perché ci sono delle immagini dove lui, sugli sparti, aggredisce un tifoso, quindi rischia sul penale. Io vi mostrerò nel prossimo video anche queste immagini e le commenteremo assieme perché Napoli non sta andando bene e le cose in casa napoletana stanno girando molto molto male. Colpa anche di Osime. Detto questo, che cosa si sono detti? Rocchi e Marotta lo vogliamo sapere. Questa è una notizia che dovrebbe fare il giro di tutto il web, che dovrebbe anche essere scritta su qualche pagina dei giornali, ma sappiamo che non lo faranno mai ed è per questo che vi invito a condividere il più possibile questo video. Perché dobbiamo far sapere tutto il marcio del calcio. Semplice. Detto questo, il video finisce qui. Se sei arrivato fino a qua, sei un supereroe. Non ti rimane che mettere un bel like e commentare, ora sì, con il tuo pensiero. Non lasciarlo sfuggire. Basta ascoltare il pensiero degli altri. Cominciamo a far sentire il nostro, che diventa molto, ma molto scomodo. Sempre, sempre di più. Condividi questo video, come ti ho detto, e iscriviti al canale, se ancora non l'hai fatto. Attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ogni volta uscirà un nuovo video. E su Instagram, se volete, potete contattarmi in privato. Peter underscore Pan underscore Bianconero. Detto questo, il video finisce qui. Io vi ringrazio di cuore. Mi raccomando, non vi perdete il prossimo video di De Laurentiis e di quello che rischia. con le immagini dell'aggressione sugli sparti. Il video finisce qui. Vi saluto. Ciao, io!